bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo su FIFA 15 giusto? partiti perfetto siamo il la Germania contro il Belgio ok e naturalmente youtube youtube se l'avete notato che dirà e va a far gol stavo per trascinare stavo per trascinare giù i buggetti e io c'ho le cose cosa stai per dirlo giù? è la casa sì sì ok gol è arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Felleini occhio al contrasto alla schiena si chiama si chiama azardo c'è scritto azardo lì azardo sembra il nome di il telefono che c'è sul punto a metri a disposizione è tutto solo vado no la riprende il belgio il belgio vertoghe gli va addosso gli va addosso passa la palla passa la palla lo verso la porta no il belgio riprende la palla ma non è il vento falloso gara subito calda fuori gioco no no calcio di punzione calcio di punzione calcio di punzione quasi verso l'inizio della scuola faremo anche i pack opening noi parliamo noi parliamo lì iniziano cioè ecco il tiro e il portiere dai autogolli no era quasi autogolli mamma mia infatti questo qui come era occhio perché è una potenzione interessante hai visto la cosa senza esitazioni ha mostrato i capelli avete visto che i capelli aveva domani guarda cioè un'altra cosa intrecena guarda cioè cioè un'altra cosa guarda per la Germania dai forse gol forse gol no ok il portiere tira prende il belgio si ha preso il belgio passaggio alla germania germania va verso la porta va verso la porta il belgio para il belgio prende la palla orishai forse arriva la germania che contrasta contrasta no fuoricampo mi sa che il fuoricampo il belgio allontare il pallone di testa no oh mamma mia passaggio di testa cerca la rete nooo a far gol non siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 quindi e comunque l'umore no lì sopra c'è una faccina sul basso e sarà caccia di punizione l'uomo l'uomo attraverso l'uomo l'uomo stongue stiamo giocando con questo infatti ci saranno qualcosa quindi palla larga giusto? giusto youtube youtube ecco un'altra volta due scusa lavagna vetri prova a sorprenderlo e c'è la parata cosa si è mangiato spalla il calcio all'angolo per i tereschi stiamo a far gol allora no ah si oltretutto questo c'è pressione su di lui? orici ok ah asa va via bene al difensore fa gol no ok scusa vadi 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 no no ma che si è andata lì ma che si è andata è un'altra cosa non dobbiamo mangiare registriamo più o meno le due e mangiamo mezzanotte sono le due che dirà come il calcio come il calcio vero come finita forse male c'è lì c'è il calcio non c'è tutto non c'è tutto pericolo ecco il tiro grande parata grande riflesso super qui il portiere e si chiude così il primo tempo 1-1 forse si aspettavano qualcosa di più da questo primo tempo non credi? sì adesso ok a Germania batte il calcio all'inizio della seconda frazione vadi vadi no no ma che il caso che si sente il computer key il haburo occhio al tiro hanno perso una buona occasione per quanto ti ha fatto non hanno fatto quali nemmeno adesso è finito il primo tempo comunque che dirà ok quindi è la prima partita potrebbe finire in parità no vabbè se finisce in parità mi sa che ci sono i calci di rigore se non mi spieghi bene il pallone dai eh e dai eh oh sembrava dentro porca miseria la prende dentro perché oh silenzio di tumba incombe nella tumba il quadro ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato in un momento giusto ci sono forze fresche si fa bolla oh parata c'è la presa in faccia le ha fatto un air shot è libero è libero può far gol o far gol eeeh nooo guarda si nooo c'è sempre possibilità possibilità nooo esplode il blu yeti gooo ho dovuto levare le cuffie perché ma mi hanno fatto gol guarda che risulta c'è è possibile forse fare un altro gol non si spera un grandissimo colpo di test il potente adesso è di 2 a 1 va bene lascia stare e gente si ottimo davvero nei tecnologi no ruba la palla quello lì capelluto non ce l'ha non so se capelluto mi raccomando l'italiano contrasto rubido vigoroso allora adesso è uno e quell'altro vado nooo mi sembrava dentro c'è gli ha passato tramonto avemmo spalla non avemmo più palla eh no tra un po' tra un po' ma non spazio per il cross non va bene oh maledetto prova a andare credono ancora nella possibilità del barino nooo c'è che cosa so su di cecità proprio eh non riesco a capire quando è dentro fuori non fra intendete non fra intendete non fra intendete ti immagini doveva andare a giocare a casa che cosa succedeva nooo nooo guardate prima di parlare ho sbagliato l'amore eh vabbè guarda prima di parlare questi sono insegnamenti offerti da casa tua mhm vabbè quanto quel pezzo vogliamo nooo riguore tre volte ecco il tiro c'è ha fatto una capriola c'è ha fatto 30 capriole prima di cadere al suolo c'è 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 ok c'è tutto ok allora lì ancora si è arrivata una cartella c'è 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 eh lo sostituiamo con 78 79 79 79 79 79 è il migliore si potente peccato per finire questa partita ci vorranno tanto è già non è ancora scritto l'amore a questi band ma ditte che si sentite a me telefono No, guarda Ecco, si batte su lui e si spacca tutto E va bene lo stesso, va bene, dai Passa Tutto da farlo Sì No Le disturbazioni della vita Sarà che si è spostata la porta? Ah, sì, giusto Ha sposto la porta E' più buono Sì Tanto poi tagliamo E' vero che è tagliato? Vero? No Mh Se sentite dei strani rumori E' perchè il mio telefono è libero Ma 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 Sì Lo vedo Pio meno per questo video è tutto Proprio 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 Per questo video è quasi tutto Proprio 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 Nooo Nooo Non c'è tanti like